Carneficina a Wall Street Siamo a 260 punti In totale il Dow Jones è a meno 5 Come previsto dall'Associazione Costruttori La flessione dell'edilizia sta causando un terribile crollo del mercato immobiliare Siamo ai minimi storici, meno 724 punti Quello di oggi è un triste primato per il Dow Jones Mentre gli investitori subiscono ingenti perdite Un altro noto istituto bancario è vicino al collasso Fervono in tanti colloqui tra lo staff del Presidente Il Segretario del Tesoro e la Federal Reserve Il portavoce del Presidente richiamerà fra un'ora Sono a colloquio Vorrà sapere da me che pensiamo di fare Non è come con la Keller Zable, Bill È una banca troppo grande per fallire Sì, sarebbe davvero folle Ma va risolto Ci sono 70.000 miliardi in derivati in mano a meno di 20 banche Per come vanno le cose non possiamo sapere come andrà a finire Quanto sarà la perdita? Almeno 500 Io dico più 600 Bill, secondo me Harry e Charlie sono ottimisti Io penso a 7, anche 8 800 miliardi Il problema è farlo accettare al Congresso Vorranno sapere che fine farà quel denaro Non sarà facile convincerli Spaventatele E come? Dite la verità Il governo dovrà ristabilire la fiducia Se non fermiamo l'emorragia Entro tre giorni Metà delle banche presenti qui saranno fallite E fra cinque giorni lo saremo tutti Vi rendete conto di quello che dite? State chiedendo il più grosso salvataggio Della storia di questa nazione Stai parlando di statalizzazione, Bretton Di socialismo E tutta la vita Che lotto contro questo nemico della storia Ma se non lo facciamo, Bill Non ci sarà più la storia La musica si fermerà E il ballo sarà finito Giulio 1929 Ma adesso sarà peggio Perché succederà più in fretta Sarà la bancarotta dei mercati Di tutto il mondo entro sabato Poi i Bancomat smetteranno di sputare soldi A quel punto qualunque intervento sarà inutile Le banche chiuderanno tutte La gente andrà nel panico Tu vuoi assistere alla fine del mondo, Bill? Sì? Va bene, signori Vi faremo sapere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti